vediamo che andrà per prima ah, forbici batte carta ma guarda un po', non ho mai avuto un vero microfono ma è acceso almeno credo proprio di sì prova uno, due, tre ehi, mettiti questi ogni star li indossa ottima idea, Tina siete pronti a darci dentro? wow da dove arrivano quelle luci? e senti come canta Lizzy inchinatevi alla nuova regina del pop facci sentire dagli quello che vogliono, ragazza ad è così che si fa sei proprio bravissima adesso tocca a me wow, il mio microfono è diverso posso cantare anch'io? ma perché non esce alcun suono? nessuno conoscerà il mio talento il cioccolato mette sempre di buon umore vorrei mangiarlo anch'io ehi, vuoi fare a cambio? così sono tutti felici pronta per la prossima? oh, ma guarda quanto è carino oh, che bravo che sei chi è il cagnolino più dolce del mondo? chissà se ne ho uno anch'io oh, il mio è reale oh, ma guarda che nasino rugoso e che occhi temeri ti amerò per sempre sì, lo farò aspetta ho un vestitino perfetto per te un bel vestito per una bella principessa ecco qui non è adorabile? è proprio carino ti spiace farci una foto? dite cheese oh, siete fatte l'una per l'altra Tina, dovresti davvero pubblicarle sono stupende, grazie il mio cagnolino è così noioso ne voglio uno vero come il suo vediamo se questo funziona devo soltanto esprimere un desiderio dai se la puoi fare, piccoletto vuoi quello sticino, vero? ti prego, piccolo, dai su, ho detto beh, almeno ci ho provato gli serve un po' d'aiuto vai così ancora un po'? oh, ma come sei bravo Tina guarda il mio ha preso l'osso sì, certo almeno il mio non fa i bisognini a terra ehi, questo cioccolato è così buono non so resistere ai dolci ambarabacci ciccocco quello è una specie di maschera magica? wow ma che succede? hai sentito quel rumore? sono dei gattini dobbiamo salvarli subito sta tranquilla, ci penso io ho i miei nuovi superpoteri riesco già a sentirli ci vediamo dopo adesso vado a salvare qualche gattino l'ha fatto davvero Tina hai salvato la vita a quel gatto oh, chissà che gli sarà successo ho solo fatto il mio dovere ehi, Tina c'è qualcuno? è proprio persa riprenditi, amica Tina torna in te, su no, non è possibile ok adesso guardo il mio wow questa maschera è spettacolare Tina, guarda ci sei? Tina rimane soltanto una cosa da fare con la cioccolata al latte non si sbaglia davvero mai forse questo la sveglierà ehi, Tina cioccolato ce l'ho fatta bentornata sul pianeta Terra vuoi qualcosa di dolce? grazie, Liz vedi, il cioccolato fa miracoli sei pronta? oh, scusa devo rispondere ah, ma che maleducata Lizzy? Lizzy! torno subito, scusa beh, mi tocca aspettare a morte zombie facciamo festa, gente queste maledette cuticole ecco qui non è nemmeno qui vicino adesso basta ah quella non è cacca, vero? ma che schifo e l'altro? ah, la mia barretta preferita ed io ho quel coso lì Lizzy la pagherà sì, lo faccio deve essere bella molle e appiccicosa vediamo oh, sì adesso va bene taglierò un pezzo qui ed ecco fatto si è davvero sciolta solo un assaggio buona prima di trasformarla beh, in quella cosa il cioccolato è molto versatile questo mocchietto dovrebbe andare è perfetto mi sa che Lizzy sta tornando fa finta di niente oh, scusami tanto ma no, tranquilla vediamo cosa c'è cosa? ma questa è cacca vera quel trucco ha funzionato dai Lizzy la mia cacca è carina, vero? è tutta tua cosa ha detto? dice di fare a cambio ma perché vorresti scusami? sembra deliziosa buon appetito oh, mi sto sentendo male Tina, ti prego smettila smettila voglio divorarmela tutta oh Dio sei del tutto impazzita così impari a stare sempre al telefono tocca a te Tina ok oh, è una piccola tour Eiffel e sono sicura che sia di cioccolata ho la culina in bocca voglio darle un morso non male niente affatto sembra buona Tina, datti una calmata sembri un animale è così cremosa è gustosa ok, apro il mio assomiglia a quella di Tina ma non so se è di cioccolata è molto bella però è dura come la pietra sembra fatta di plastica e ora che ci faccio? vorrei tanto visitare la tour Eiffel oh Thomas non avresti debuto è il posto più romantico al mondo le tue labbra sono fredde oh addio fantasia chissà se ci andrò mai a Parigi Tina mangerebbe di tutto questa cioccolata non è economica ehi iniziamo mascheriamoci voglio proprio un po' di dolci ok un sacco di dolci non ci sta guardando vero? fatto ehi hanno rubato la mia cioccolata ladri oddio a momenti ci becca e ora ci godiamo il nostro bottino non così in fretta vi pentirete di quello che avete fatto via è l'ora della sfida al cioccolato un attimo sento odore di sfida prima io? no io ce la giochiamo? il mio pollice è più forte non è vero spero i teschi mi spaventano da morire ma no non è vero grazie a Dio dimmi che sono bella è uno scherzo e per me? un teschio di cioccolata è enorme ed è tutto per me delizioso ti dispiace se ti mangio? non mordere troppo andiamo dritti al punto allora sì è proprio cioccolata è buona per giunta posso dare un morso? non condividi beh mi annoio io incredibile quanto si somigliano peccato non poterlo assaggiare a meno che idea oddio è morta Naomi è morta ma quanto tempo ho mangiato oh Naomi il teschio mi è stato utile alla fine oh via il broncio sai che non ti abbandonerò mai bene chi inizia? uh occhiali di cioccolato eh non ho mai visto niente di simile ma mi sembrano buonissimi non male sento l'odore fin qui e per me? non vedo cioccolata però carini dai ehi sembra tutto diverso sembra proprio un altro mondo ecco qua presa ma che succede lì? Thomas che succede lì? Thomas non lasciarmi torna alla realtà non sono cose vere amico ehi ok so cosa fare che c'è? sono fighi però eh ci credo che non volevi toglierli ehi ma che wow presa ehi ridammi i miei occhiali accidenti li hai rotti ecco perché non condivido le cose scusa fammi vedere oh sì sono rotti ecco qui puoi prenderli guarda com'è triste io ho solo questi li condivido sì vuoi? prendi mi fa piacere immagino sia buonissimo eh sì lo è prima io ottimo pesce? non amo il pesce aspetta non sembra un pesce mmm cioccolato al latte divino non me l'aspettavo questo è un pesce vero non sembra di cioccolata ecco mi è andata male stavolta wow è bellissimo e guarda come cresce e come cambia ciao sono il pesce rosso magico posso esprimere un desiderio mmm di sicuro ho fame guarda quei cioccolatini vorrei quello che ha lei ogni tuo desiderio è un ordine fantastico inizierò con questo ma quanto è bello eccoci bocconcino mmm Thomas dove li hai presi? dammelo esaudisci i desideri eh? cosa vuoi Naomi? più pesci ovviamente ma sul mio piatto ogni tuo desiderio è un ordine wow non sei l'unico fortunato potrei mangiarne un milione ah cosa? ne hai avuti di più ah no ne voglio altri io no io non ne posso più addio ehi dammelo Thomas dove sei finito? non me lo aspettavo fammi uscire com'è l'acqua Thomas? perché non me lo dici tu Naomi? che la festa abbia inizio guarda come luccica non ho mai visto una cosa del genere dai spostati non c'è speranza ora sono esausta ok non è reale vero? wow pazzesco bellissimo sono tutte in tiro chissà che ho io di certo non oro ma amo la cioccolata grosso eh? e ha un buonissimo odore di sicuro l'oro non ha questo sapore ma non diventerò ricco come brilla ehi posso averne un po'? no è tutto mio facciamo a cambio? oh ok un patto è un patto ok immagino sia ecco buon appetito ah che male prima ce l'avevo in bocca questo gnam oh no il mio super giacchetto dorato non avrei dovuto fare a cambio odio questo round pronti? apriamo insieme tante patate e cioccolata a ciascuno il suo, no? ehi e se dessi una bella scossa? sì io però mi concentro sul mio potrei usare qualche salsa mai dire no alla doppia cioccolata? bello intinto sarà delizioso oh sì quasi pronto tutto ok Thomas ora gusterò anche io le patatine patatine classiche le adoro e la salsa? formaggio piccante inizio oh sì super cremosa davvero una delizia come sono le tue Thomas? niente sta nel suo mondo di cioccolato se voglio la sua attenzione devo rendere tutto un po' più piccante salsa piccante e cioccolato, no? qualche goccia basterà devo di nuovo inzuppare ottimo ma sta iniziando a fare caldo oh è solo la mia bocca aspetta ha bisogno di aiuto aspetta soccorsi in arrivo tieni duro credo di avercela fatta non è stata una buona idea mi spiace fra recuperare il tempo perduto con un amico è divertente a meno che non passino ore a monopolizzare la conversazione e la mia pancia ha bisogno di cibo subito pensi che possiamo fare una pausa pranzo? ma quello dice cioccolato e dolci sì perché non mangiamo un boccone da questa parte spero abbiano cose che ci piacciono sembra buono, vero? potrei usare un po' di zucchero accidenti un, due, tre via cielo, è spettacolare pensi che sia vero oro? è decisamente vero cioccolato mi tufferò dentro questo dolcetto zuccherino prima il tacco adesso sì che va meglio ma non è giusto che cosa ci faccio io con questa? è piuttosto carina però sarà della mia taglia? mi sento un po' come cenerentola mi sta benissimo ma dove è andata? non è bellissima sto arrivando principessa sembra che ti manchi una scarpa oh, intendi me? sì, mettimela signor principe calza come un guanto ma sta bene? è soltanto impegnata col cioccolato non ci farei caso proprio non farci caso chi ha bisogno di un uomo quando hai lo zucchero? vabbè pronte? ma sta succedendo sul serio iphone gratis questo è il giorno più bello di sempre guarda com'è nuovo non voglio metterlo più via se tu hai quello vero significa che io ho quello di cioccolato oh, proprio come sospettavo queste app non sono nemmeno reali come chiamerai con quel coso? guarda non ho mai visto quest'app prima wow è così bello immagino che ci sia soltanto una cosa da fare non è poi così male Naomi? c'è nessuno? sembra congelata o qualcosa di simile la gente e i telefoni impazziscono non è così? sì, infatti pronta per un po' di musica? riprenditi ragazza cavolo, è proprio fusa wow svegliati! niente non c'è alcuna speranza beh, è ora di fare sul serio può aggiustarla, dottore? va male è un caso difficile devo solo esaminare alcune cose sì, proprio come pensavo devo scoprire che sta succedendo lì dentro lo stetoscopio è pronto facciamolo ok non succede molto lì dentro è come una grande scatola vuota ok, rimane soltanto una cosa da provare accidenti, è una cosa seria no, è fuori dalla mia portata devi cavartela da sola, ciao nemmeno il medico ci è riuscito fammi vedere è leggero oh, Naomi si sta finalmente riprendendo ma che è successo? Naomi! pensavo di averti persa per sempre calmati Emma, sto bene pronta? dovresti aprire prima il tuo oh, non è il cupcake più carino di sempre eccomi una piccola pianta ma scommetto che non sa di pianta sembra buona, sì aspetta, ma io allora cos'ho? non posso di certo mangiarla questa odio questo maledetto round parla per te così cioccolatoso buono ti piace farmi sentire come una cretina, vero? ma posso giocare anch'io a questo gioco oh, sì e adesso cambierò le carte in tavola qualche goccia di questa roba e succederanno cose belle guarda questi fiorellini è così carino adesso wow, è così carino figo, vero? guarda ciancini ma com'è possibile? mai sottovalutare la magia? cominciamo a contare che dici? improvvisamente questo cioccolato non è così eccitante posso provarci? avanti niente banconote davvero perché a me non funziona? au emma non ha il tocco magico però ha il cioccolato sei pronta a scoprire che abbiamo? wow patatine al cioccolato buonissime a me non dispiacciono quelle vere se mangi tu mangio anche io ne vuoi? sono super dolci ma sento odore di cioccolato possiamo fare a cambio un po' per te e un po' per te nessuno perde in questo round vincono sia il dolce che il salato perché non vai tu per prima? oh la mia bevanda preferita spero che sia bella fresca non ti spiace se bevo un sorso vero? potrà mai esistere qualcosa di più rinfrescante e per me? è una soda al cioccolato oh sono troppo felice devo assolutamente assaggiarla non ci credo è piena di M&M's questo sì che è un tripudio di cioccolato vorrei avere anch'io del cioccolato Naomi condividresti con me vero? li hai già mangiati tutti ci sono ancora vedi? funziona soltanto per te oh perché non è verso un po' per te? funziona vedi? non credo finiranno mai bene oh Emma sono per me una festa di cioccolato per due che buoni aspetta stavo dimenticando la parte migliore figo figo vero? è pura bontà cioccolatosa decisamente meglio della soda puoi dirlo forte abbiamo solo un piatto questa volta? è tutto per te cosa? non dovremmo mangiarlo giusto? tanto vale vedere che c'è dentro questa sì che è una chiave pronta per vedere che cosa si nasconde? spero ci sia qualcosa di buono la sospenso mi sta uccidendo pronta? ah? dobbiamo pagare per il cibo da quando il cioccolato è così costoso? mi servirebbe proprio un po' di quell'acqua magica non ho abbastanza con tanti deve essere uno scherzo di qualche tipo ma che figuraccia abbiamo giusto qualche spiccio possono tenersi il resto ma che strano cioccolata sì ti seguirò in capo al mondo cioccolata voglio la cioccolata adoro la cioccolata ma dove sei cioccolata? devo trovarti subito quanta cioccolata mi serve un cucchiaio eccolo wow questo sogno diventa strano ehi mi sembra di aver sentito qualcuno oh ehi cioccolata mi ci butto wow non era solo un sogno allora come siamo finiti qui a quanto pare mangeremo cioccolata perché non apri prima la tua no vai tu cosa? trucchi beh che peccato tieni prendili tu yeah tocca a me oh anche io ho dei trucchi non guardare me non ha senso due set di trucchi chissà quali sono di cioccolata ok sì forse è questo no non è questa la cioccolata beh allora questo è il piatto di cioccolata me lo riprendo sembra proprio un brezzo però diamo un morso è cioccolata sì oh vorrei averlo anche io ho avuto un'idea è il momento di truccarsi un po' ma che stai facendo? ehi tu? wow ecco perché le persone non si truccano così mi sta ancora guardando ok stavolta vado prima io wow la scultura di un cobra quanti dettagli e non solo è anche fatta di cioccolata è semplicemente pazzesca e ora è il momento di assaggiare wow questa cioccolata è pazzesca sembra buonissima beh immagino tocchi a me ora ehi non è cioccolata è un vero serpente è un vero serpente oddio un serpente c'è un serpente è liscio e morbido oh che carino no mettilo giù fa paura come fai a dire come fai a dire che fa paura oh che idea strabiliante è ora di incantare il serpente ah preferisco il serpente a questo rumore al serpente piace un mondo a nessun essere con le orecchie potrebbe piacere ok basta ora suoni malissimo se ne stava andando pure il serpente sei solo invidiosa perché io ho un amico serpente e tu no questa giornata è orrenda vediamo che c'è ora verdure ma cosa anche io ho delle verdure beh immagino dovremo assaggiarle a me non piacciono nemmeno i funghi aspetta un attimo è cioccolata il fungo più buono al mondo buona la cioccolata bianca forse anche questa è cioccolata no solo un fungo schifoso preferisco mangiare i trucchi a te capitano sempre le cose schifose ah sì va bene portiamo queste verdure a un altro livello prendi questo e tagliamo qua sono una fuoriclasse hai fatto un'insalata con una spada sì esatto e ora me la mangio tutta a volte sei strana io mi tengo la cioccolata apriamole di nuovo insieme ah stavolta abbiamo delle chiavi prova prima la tua va bene ma solo perché sei una fifona chissà magari è cioccolata au proprio no non è cioccolata allora è la mia che è di cioccolata sarà buonissima non credevo che le chiavi fossero così buone non è giusto ho fame ehi che c'è sotto il piatto non ci credo è quello che penso una mappa del tesoro e con la chiave aprirò il tesoro ma ma dove sta andando wow dove sei stato ho trovato il tesoro come indicava la mappa wow è spettacolare è uno scrigno pieno di dolci meglio di una chiave di cioccolata stavolta vado prima io oh una teiera carinissima sembra ci sia qualcosa dentro ok la mia tazza è pronta oh sì piena di cioccolata calda fantastico ha un odore è pazzesco ed è anche buona apri la tua spero di avere la cioccolata ok ho anche io una teiera ma fatta di cioccolata non vedo l'ora di morderla e per me povera me non c'è niente no è mia tu hai avuto la cioccolata calda uffa che c'è ti prego ti prego sono tristissima qui senza cioccolata ma va bene posso darti questo pezzetto grazie oh mio dio è buonissima no 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 il resto è mio ma è buonissima ne voglio altra hai già avuto la tua no la teiera spera dritta nella spazzatura guarda che hai fatto non l'ho nemmeno assaggiata mi dispiace prendi la mia cioccolata calda già mi sento meglio ehi giù quelle manacce ma wow guarda qua una pizza di cioccolata spero di averne una anch'io non ci credo ho una pizza vera con dei soldi sopra aspetta questi soldi sono strani ehi ma si è spessata a metà l'odore è ok e il sapore è più che ok beh io ho la mia pizza di cioccolata ma una pizza vera non sarebbe male ehi vuoi fare a metà ok il meglio del dolce e del salato oh sì assaggiamo queste delizie prima la cioccolata gnom e ora quella con i soldi e io che aspetto è l'ora della pizza ma con quale inizio cioccolata o soldi non riesco a decidermi beh nessuno mi obbliga a scegliere un capolavoro di pizza una gloriosa combo di pizza ehi questa combinazione funziona come hai fatto a finire così in fretta? avevo famissima oh no le due pizze stanno facendo a botte oh stavo andare oh ma quant'è buona la cioccolata esistono cibi con cui non stia bene forse dovremmo provare qualcosa e controllare apri tu per prima guarda quanti occhi non mi piace questa prova oddio sì che schifo oh no e se avessi anch'io degli occhi? non sono occhi sono polpi se è possibile anche peggio questa è la peggior sfida mai fatta dovremmo immergerli nella cioccolata sono così viscidi beh mi sa che mi tocca tutto è più buono con della cioccolata no? forse anche gli occhi ce ne ho messa più che ho potuto non farmi vomitare ti prego è è buonissimo gli occhi al cioccolato sono deliziosi prova i tuoi saranno buoni anche loro è che hanno un sacco di tentacoli non credo che la cioccolata possa migliorarli li impingo da sopra devo tapparmi il naso sarebbe meglio tutto giù spero di non morire no non è buono è cattivo cattivissimo perché me l'hai fatto fare? scusa è solo che gli occhi erano così buoni e ora la seconda sfida sì mini marshmallow che carini cosa? ma dai ho dei peperoncini guarda molto meglio degli occhi sono nuvolette colorate e carine mi serve una tazza intera per queste la riempio tutta che roba sarà deliziosa e ora passiamo ai marshmallow tutti nella tazza di cioccolata e ora me la scolo tutta la cosa più buona del mondo beata lei io sono sfigata chissà quanto sono piccanti è ora di scoprirlo forse la cioccolata mi proteggerà do solo un piccolo morso non si sa mai oh no la cioccolata non ha funzionato brucia ho la bocca in fiamme che cosa posso fare? la cioccolata la tazza di cioccolata ti salverà ha funzionato? sei salva scommetto che ora non pensi più alla tua bocca in fiamme sono ricoperta di cioccolata ok qualcosa di nuovo oh grazie a dio è qualcosa di buono macarons li adoro wow che roba aspetta cos'è questo odore? sono io? o sono i miei calzini? lea lo sento anch'io penso venga dalla cloche sì viene decisamente da qualcosa lì sotto ho paura di quello che troveremo è un formaggio stagionato super puzzolente oddio che odore fortissimo mi spiace ma meno male che non è toccato a me e ora via con l'insuppata ora sì che ragioniamo sarà buonissimo friabile e dolce dopo i polpi e il peperoncino ci voleva proprio devo provare il formaggio puzzolente mi serve la giusta attrezzatura la sicurezza prima di tutto sempre magari è buono come gli occhi qui serve tantissima cioccolata sì oddio speriamo sia abbastanza e ora a noi due ehi è proprio come gli occhi buono se lo dici tu io mi tengo i macarons è bello aprire una nuova cloche uh scimpillante e carino sì cristalli di zucchero forse ce l'ho anch'io che schifo e pesce non sono mica un leone marino ah puzza più del formaggio grazie a dio i cristalli di zucchero stavolta tutto nella cioccolata sì tutto cioccolatoso wow sarà buonissimo un bel morso avevo ragione è delizioso uffa vorrei quello al posto del pesce mi spiace amica ne vuoi un morso? no grazie devo farcela a noi due pesce penso che con la cioccolata farà ancora più schifo che paura forza forza non posso guardare è la mia fine oh non è malaccio anzi molto buono dolce e salato insieme ora mi sento male altro pesce al cioccolato per me un'altra apriamole insieme broccoli non è giusto wow io ho l'anguria danza della vittoria a quanto pare chiuderò in bellezza che importa oh ho un'idea broccoli un bel bagno di cioccolata la cioccolata non mi deluderà mai buon appetito è buonissimo davvero è buono a me i broccoli piacciono scambiamoceli beh va bene se insisti e vai ha funzionato c'è cascata un rafferangori e cioccolato molto meglio dei broccoli questo è certo non vedo l'ora di mangiarla oh il top del top che buono assaggiamo questi broccoli deliziosi wow saranno buonissimi aspetta un attimo non sono per niente buoni per niente quanto mi dispiace grazie per lo scambio non posso credere che mi hai ingallata i broccoli e la cioccolata non vanno insieme facciamo sciogliere questa cioccolata uh cioccolata possiamo non se ne parla nemmeno torno subito se ne è andata adesso mai più cioccolata vai prima tu ah ma non capisco che dovrei farci con questi peperoncini wow sono piccanti solo a toccarli vediamo che cosa ho io wow tavolette su tavolette adesso me le mangio tutte forza e coraggio oh ma sono buonissimi oh no ecco che cominciano a bruciare aiuto aiuto piccante non basta prova con qualcos'altro brucia ancora ah non so che cosa fare Madison ci sono la ciotola basta fare così vai scatenati qui sopra sciogli tutto con quel fuoco adesso va meglio guarda qui confettini e marshmallow li porti sempre con te quando esci meno male che li avevi comunque e tieni una cannuccia gustiamoci un po' di cioccolato fuso la mia ha qualcosa che non va anche la mia oh che strano però sasso carta forbici ho vinto oh che meraviglia anelli di cioccolato guarda uno per ogni mano sono stupendi e che buon profumo diamo il primo morso mmm che delizia ma è fantastico ehi qui sta succedendo qualcosa wow non ci credo altro cioccolato wow altro che anelli veri chissà se anche io avrò una sorpresa oh mio dio anche questo si mangia non sembra proprio ma forse se lo indosso succede qualcosa wow è bellissimo wow questo anello dà i poteri forza anello ah volle di sapone tutto qui oh beh a me piacciono ok tocca a me aspetta cos'è quello oh mi ha imbrogliata a quanto pare hai una coca mi andava proprio una bibita mmm deliziosa e dissetante adesso tocca a me anch'io ho una coca ma è di cioccolata divina ehi c'è dentro qualcos'altro è piena di caramelle una bottiglia dolce piena di dolci wow oh non poteva capitare a me me ne dai un pochino no 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 è tutto per me ma dici sul serio che spilorcia adesso mi sento un po' in colpa questo risolverà il problema tieni è meglio che tu sti attento cosa oh aspetta sarà successo un disastro ma dai anch'io ho la coca di cioccolato grazie Madison alla tua wow fontane di cioccolata sì che belle che sono sono tutte per noi Brian vai tu ah è questo che diavolo è perché ho un piatto di cavoletti beh senti che odoraccio il sapore è anche peggiore ti è andata male ma per fortuna io non ho niente del genere ho caramelle colorate scommetto che sono gommose quasi dimenticavo la cioccolata facciamo qualche esperimento caramelle gommose di cioccolata aspetta ho un'idea migliore gomme cioccolata e confettini è una combinazione vincente wow hai visto che roba ho visto è incredibile tanto vale provarci con questo la cioccolata dà a tutto un sapore migliore ok proviamo ok è disgustoso oh aspetta come posso aiutarti aspetta ci sono un bicchiere di cioccolata la cioccolata la cioccolata fa passare tutto bevi e stai meglio va meglio in effetti grazie la cioccolata ha risolto dopo di te Madison Pringles le mie preferite sono gustose e croccanti ma aggiungiamo la cioccolata ah sì perfezione e via nel mucchio guarda quanto sono belle e adesso assaggiamo sono anche tanto buone niente male vediamo che cosa ho io che cos'è forse una specie di torta come faccio a metterci sopra la cioccolata oh che nervi oh no sono finite sarà rimasta qualche briciola sta perdendo la testa accidenti meglio approfittarne perfetto adesso ho questo bel ricordino Brian mi spieghi che cos'è quello aspetta aggiungiamo la cioccolata così e naturalmente i confettini tanti confettini ed ecco il momento della verità sì ha funzionato è impressionante ci sto da favola sulla tua torta sì è venuta benissimo tieni che buona deliziosa oh sì un capolavoro ah il mio pollice ha vinto tocca prima a me per l'ultima sfida uova di cioccolata sì vediamo se anche io ho qualcosa di buono oh io ho delle uova solo che sono vere oh ti è andata male poverino io ci aggiungo la cioccolata perché non è mai troppa ah sì un vero paradiso di cioccolata già sembra buonissimo forse non sono davvero uova sode ah invece sì ho avuto un'idea brillante piano piano preso e adesso proseguiamo col piano mi servirà metterci altra cioccolata sì tutto coperto mi sa che basta ehi Madison guarda l'ho ricoperto di cioccolata non hai idea di quanto sia buono dici sul serio va bene lo assaggio scambiamoceli se proprio insisti guarda quante voglio proprio assaggiarlo dai cioccolata ricoprilo bene non posso credere che ci sia cascata non è buono per niente ah te l'ho fatta brian sei pessimo bene 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 che abbiamo qui quanto pensi valga un milione di dollari ok se ne sono andati tutti è il momento di entrare pesantina ehi dove pensi di andare ridamme la ladra guarda che hai fatto tu vieni con me cosa è successo perché ho le manette così è meglio cosa ma dove siamo mi sa che è una chocolate challenge e direi proprio che accettiamo effetto sorpresa ok ok guarda carini vero quasi troppo carini per essere mangiati amo la frutta secca sono mandorle dai non posso più aspettare deliziose mi sento diversa ok molto diversa saluta la nuova regina degli unicorni voglio provarla anche io dolcissima aspetta un attimo sono anche io un unicorno non proprio non è giusto questo non conta come un corno vorrei esserlo ehi è tutto ciò che ho e via eh no via ok basta alziamo particolare questa lampadina di che odora conosco questo odore sì è decisamente cioccolata al latte yum super croccante guarda dentro è vuota impressionante l'hai solo morsa no io non riesco nemmeno a prenderla la tua è sempre buona certo che sì oddio cos'è questa luce più luminosa di un albero di natale viene da dentro di me sei una lampada ambulante Tina figo vero ok ne ho abbastanza non è stato così divertente ehi so come farti divertire ci serve solo un po' di elettricità wow hai visto è semplice elettrostatica ora aiutami sì muovi i capelli funziona alla perfezione ho avuto un'idea ancora più bella scompigliamoci i capelli tutte e due pronta via sento proprio che si sta producendo qualcosa accendiamo questa lampadina dammi la mano wow quanta luce direi che abbiamo illuminato per bene il mondo niente più buio inizio io no inizio io ho sempre voluto una macchina tutta mia non pensavo ne avrei ricevuta una di cioccolata facciamo un giro di prova vroom vroom baby ma dai è una macchina di cioccolata vediamo vediamo quanto può correre le ruote andrebbero oliate attenzione al piatto tu e i tuoi giochi sul ponte e poi nel tunnel gnam cremosissima è buonissima sei gelosa anche io ho una sorpresina aspetta un attimo queste chiavi sono vere è ciò che penso sia oddio è la mia nuova macchina ci credi la mia macchina nuova di zecca roba seria ok ciao è questa vero ed è rossa spero sia uno scherzo sei già tornata beh che è successo non era ciò che mi aspettavo cioè sono le chiavi di questa macchina più grande non significa sempre migliore vero? deve far ridere uno due tre ehi che succede? ma è ingiusto questo invece non è per niente ingiusto adoro il pop-it nocciole fresche wow che spuntino come le metto insieme? mi viene in mente una cosina iniziamo assicurati che la cioccolata si distribuisca in ogni buco siamo a metà ma che diamine perfetto ora la parte più divertente ecco qua per ogni buco devo pensare in modo intelligente tada apritevi dai che capolavoro ma manca un ultimo step ecco è stata tosta Tina che stai facendo? ecco il mio capolavoro di cioccolata e ora aspettiamo che noia non ancora uffa mi sto annoiando da morire e dai aprila wow non è incredibile tirale fuori ho fatto delle barrette di cioccolata tocca a me adoro questo gioco ma non ho la cioccolata wow guarda che roba piovono caramelle amici è incredibile guarda come escono rimane solo una cosa da fare wow sembrano deliziose posso? ciò che è mio è tuo ferma inizio io ma stavolta faccio un controllo prima tu e i tuoi controlli guarda cosa c'è nel mio non ho mai visto una cosa del genere dovevo andare io per prima chi dorme non piglia pesci a questo giro vinto io direi ma perché non scrive niente? non è un vero pc è cioccolata al latte super cremosa e ce n'è un sacco tutta per me incredibile wow sembra buonissima già io invece ho un computer vero cerchiamo comunque di trarne il meglio tu te lo stai sgranocchiando tutto non ho visto niente di simile prima d'ora più cioccolata c'è meglio vedo tutto stai bene? direi di sì sto da dio prendo giusto qualche informazione ma che fai mettila stai leggendo tutto ora sì che si ragiona grazie per i soldi rimettili a posto sono i miei soldi Sara mi prendi in giro sì me ne servono un altro po' devo porre fine a questa cosa insensata beccati questo antivirus coca funziona non riesco a leggere i numeri che bello non per niente sono una poliziosa alziamole insieme guarda quanto fuma è la maschera da un milione di dollari ed è intera wow siamo dove eravamo all'inizio no non tocchiamola mai più ci vediamo questo cioccolato è delizioso ehi come va facciamo merenda anche io ho della cioccolata non vedo l'ora ma è disgustoso è tutto sciolto come faccio ehi quella è una banana questo è il mio giorno fortunato la intingerò nel cioccolato sarà buonissima proviamo è deliziosa ti piacerebbe come vuoi maggiordomo qui avanti ah grazie ho i marshmallows cosa stai facendo e dai solo un pochino non divido non essere cattivo stai indietro che cosa è successo ho un buon presentimento e adesso aspetta ho un'idea maggiordomo proprio quello che volevo sembra incredibile posso farlo anch'io cosa davvero è fantastico questa giornata diventa sempre più bella guarda quanta roba sto per vomitare pane raffermo lo tengo per dopo un involucro questo è un programma per famiglie fate finta di non averlo visto guardate un biscotto questo andrà benissimo sarà fantastico dovrei essere colpita guarda e ammira infilso i miei marshmallows con questo spiedino wow perfetto proprio come il mio ho tutti i gruppi alimentari ora ho bisogno del cioccolato wow sarà davvero gustoso che te ne pare non posso crederci spero che il sapore sia buono quanto l'aspetto becca bene assaggiamo ecco mamma è tremendo fatti da parte è il mio turno così dovrebbe bastare ho la colina in bocca me le voglio proprio gustare non vedo l'ora oh sì è davvero delizioso devo dare la ricetta al mio chef cosa stai guardando mi sto godendo il mio spuntino sì certo non riesco a smettere di mangiarlo no è immangiabile ma non posso farlo sapere a Olivia dov'è il cibo che delusione wow l'hai visto è un bagno piccolissimo è così piccolo e carino aspetta quello è il tuo guarda ho un lecca lecca sono così felice lo immergerò nella fontana di cioccolato guarda è un'opera d'arte mi piacciono le cose belle della vita oh aspetta ci sono delle caramelle lì dentro è incredibile ed è mio tutto mio non posso più aspettare devo provarlo oh wow l'adoro eh che cos'è quello di cosa stai parlando oh questo non c'è niente dentro almeno hanno tirato lo sciacquone un attimo ho un'idea lo userò come cannuccia slurpo sei mio cioccolato lo tiro su e poi lo soffio nel water fino a riempirlo ci siamo quasi uff è stato un lavoraccio ora mi serve qualcosa da insuppare ti vedo come come hai fatto devo concentrarmi metto gli occhi sugli spiedini sono così morbidi ma almeno sono freschi credo di essere pronto li immergerò nel water aspetta l'ho detto davvero vabbè io non riesco a guardare c'è di meglio penso di sì un po' di zuccherini per decorare è una follia ma non riesco a farne a meno che cosa sta succedendo wow questi occhi sono davvero particolari non sei l'unica ad avere gusti raffinati vorrei non averlo mai visto mi mi perseguiterà conserverò questi per dopo dopo le lezioni mi viene sempre fame un attimo penso che sia tutto oh quasi dimenticavo cosa succede lì sono dolci quelli oh fa finta di niente siamo stati beccati conoscete le regole è stata tutta colpa sua no sua presto usciamo da qui andiamo vai via 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 oh no non ci provate ci sta alle costole che paura non c'è scampo non si arrende proprio devo allenarmi di più lasciamo perdere mi è venuto appetito ci voleva aspetta fermatevi credo che l'abbiamo seminato Olivia dov'è il terreno? un atterraggio sicuro e adesso? stai pensando a quello che sto pensando io? uno due tre via wow ciambelle io ne ho una enorme wow è incredibile aspetta guarda tutti quei gioielli vorrei averne anche io sembrano così costosi aspetta ho un'idea sì potrebbe funzionare oh guardatelo è meglio che mi metta al lavoro infilo un ago e un filo nella ciambella cosa sta facendo? guarda ho fatto una collana mi sento così elegante mi sento così elegante ho anche un anello aggiungiamo del cioccolato sembra buono è bellissimo non riesco a resistere devo solo mangiarlo ti accontenti di poco? ok è il mio turno avrò bisogno di un bicchiere ci faccio colare del cioccolato e lo riempio tutto sarà fantastico solo un altro po' ecco fatto ora lo faccio colare sulla ciambella questo sarà il mio capolavoro dovrebbe stare in una galleria quasi finito e ora la parte migliore lo indosserò questo è l'ultimo trend a Parigi delizioso devo provarlo wow sembra fantastico che buono non riesco a smettere di mangiarlo c'è forse di meglio? non vorrei finisse mai potrei stare così per sempre vero? wow ma che sembri diversa non mi pento di nulla com'è possibile? apriamolo wow possiamo mangiarlo tutto secondo te sfida accettata quant'è cremoso è come il paradiso in un cucchiaio non dimenticare i lati abbiamo finito stai pensando a quello che penso io così lo puliamo benissimo dai dai oh no wow ehi ti dispiace se vado io cosa? non è giusto? forse ho parlato troppo presto questa roba è più grande di me non riesco a vedere la parte sopra dammi un minuto cosa? sapevo che questa scala sarebbe tornata utile non ci posso credere ci sono quasi wow sembra una coppia felice oh mi hai preso dei fiori? eh Wendy mi aiuti iiii vieni giù oh grazie che caro aha e ora tocca a me ho una mini tortina ed è del mio colore preferito che succede lassù? beh oh oh santo cielo stai bene aia stupido romanticismo ehi guarda la tua tortina carina mangiamocela deliziosa aspetta posso andare io stavolta oh che ho fatto per meritarmi tutto ciò? wow iniziamo con queste dolcezze è tipo un panino di cioccolata wow chissà che c'è qua sotto tada non ci credo un hamburger di cioccolata guarda Wendy anche il tuo è molto carino e fa sembrare noioso il mio vorrei che anche il mio fosse grande come il tuo lo so per prima cosa do una bella stirata a questo chissà che viene dopo una tagliatina e poi avrò la mia salsa di cioccolato come se piovesse molto meglio ora addento che buono wow quasi bello come il mio devo giusto dargli una stiratina aspetta si sta sciogliendo troppo velocemente o no? il mio panino bellissimo è tutto sciolto è per giunta poco appetito no io ok oh mi aspettavo qualcosina di più devo coprirmi la maglietta se no mi sporto e andiamo posso comunque prenderne il meglio cioccolata a latte bellissimo comunque oh wow riesci a crederci cosa? non puoi nemmeno mangiarle tutte che faccio? ehi apri bene Wendy proprio così esatto proprio qui punto tocca a te bam ecco rosa arriva da te non lasciarmi appesa dai cosa? sono finite no e dai Wendy che fa? perché non vai prima tu? ok oddio un uovo gigante e chissà che c'è dentro devo essere preparata a tutto perché potrei fare un casino wow questo non me lo aspettavo piccole palline di cioccolato sono semplicemente divine non ce la faccio più wow tre ovetti ma dentro che c'è? ah? davvero? dentro non c'è nulla buonissimo lo so è il momento di tirar fuori i muscoli ehi stessi oddio che fai? oh sì rotto tutte quelle ore di palestra sono servite a qualcosa direi sì ma ho un'idea migliore pop it mentre tu fai questo io ho altri piani lo metto qui dentro il che non esce ricoperto di cioccolato e ora lo sostituisco perfetto ehi perché non dai un morso? come no un bel morso a questo uovo di cioccolata ma che cioccolata è? che schifo smettila di ridere di me stessi aspetta un secondo mi dispiace ehi ciao cosa? vediamo un po' no wow voglio il suo molto meglio guarda chi non sognerebbe tutta questa cioccolata assaggiamo arachidi scommetto che potrei mangiarmi tutte queste barrette sembrano buonissime e per me? solo uno ma non è giusto so cosa fare perché non berla? pronta per diventare liquida tesoro? calore ci vorrà un po' di tempo ecco qua sembra buono ma potrei usare un po' di panna ok un bel po' di panna facciamoci un bel sorso dai ma quanto è bello cremosissimo aspetta ti si è bloccata la bocca resisti questo aiuta questo dovrebbe funzionare aspetta sì pronto so cosa fare questo messaggio funzionerà sicuro ecco a win dice che mi ama significa che stiamo insieme che succede lì dentro? dai andiamo a vedere il mio siero è quasi pronto e ora testiamolo il test ha dato gli esiti che ci attendavamo se ne va introfoliamoci speriamo che non ci becchi oh stava facendo delle caramelle sembrano buone ma che fai? metti la giù non mangiarla aspetta un attimo sta succedendo qualcosa oh mio dio sei uno zombie mangiate le mie caramelle provate questo ehi zombie al mio 3 apriamo zombie ho detto 3 apri anche tu cos'è? occhiali da sole oh guarda un biglietto VIP zombie zombie piace VIP oh sì proviamoli wow guarda che discoteca bellissima vero zombie? ciao ragazze che vi faccio? vogliamo un drink uno shakerato VIP zombie wow sembra bellissimo mmm ed è anche buonissimo ciao amica ed ecco il tuo zombie piace succo cosa? fa schifo succo di pomodoro? zombie vuole zombie shake oh zombie tornata indietro ehi ehi torna anche tu wow cos'era? non sarà niente zombie dice sveglia ehi che succede? oh zombie mi hai spaventata ciao amica guarda zombie balla ok zombie apriamo queste questa sei tu? scherzo che diamine è? cervelli abbiamo dei cervelli non sa di niente aspetta non è cibo zombie piace cervelli oh zombie ehi aspetta zombie guarda ti stanno tornando le mani normali cervello salvato zombie continua a mangiare forse tornerai normale credo stia funzionando sì sì sei di nuovo Sara hai ragione sono di nuovo me al cento per cento oh sì tesoro c'è qualcosa di strano Sara tutto ok? oh mannaggia zombie di nuovo ehi forse questo cervello funziona provalo oh zombie l'avevo detto che non è cibo ok vado oh di nuovo occhiali da sole e questa cos'è? una barretta di cioccolato intanto mi provo gli occhiali carini sembra tutto normale oh wow la barretta di cioccolato che figata wow zombie sei tutta ossa divertentissimi questi occhiali diamo un morso a questa barretta oddio amo la cioccolata zombie vuole cioccolata zombie ossa danza zombie ossa ah nessuno sta guardando zombie gnam ossa buone zombie unisce ossa zombie costruisce con ossa zombie fa scherzo epico zombie serve vestito serve capelli salve ora scherzo che c'è zombie? ah giusto sei uno scheletro zombie sei uno scheletro per davvero? ah 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 zombie scherzo aspetta giù oddio zombie il tuo occhio ti è caduto sul tavolo quando è starnutito ops occhio viscido ecco qua occhio tornato in orbita ah ok inquietante davvero oh mio dio non inquietante come questi ah 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 wow ah 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 ok sono pronta per riaprirla iii che paura i ragni ehi non credo siano veri zombie piace i ragni vedi ragno buono oh sono caramelle sono buonissime le caramelle a forma di ragno gustose zombie apre sua cloche ora ah zombie niente zombie zombie hai qualcosa in testa ragni su testa zombie ah ah oh mi sa che non le piacciono i ragni vai prima tu ah cos'è strano un telecomando e vai un cupcake sembra davvero delizioso non vedo l'ora di mangiarlo gnom super cioccolatoso forse anche lo zombie a cupcake no zombie bara che c'è dentro dentro niente forse per testa zombie no utile no bara zombie ops il telecomando oh no zombie zombie piccolo ora ehi tu fatto zombie piccolo scusa scusami non volevo wow non volevo fare nemmeno questo è enorme ok ora provo quest'altro sì ha funzionato sei di nuovo normale zombie bara più grande ora zombie piace grande bara zombie prende bara ora oh immagino se ne sia andata zombie dice guarda lì ehi non imbrogliare zombie ok apri la tua io apro la mia oh che puzza tremenda è un hamburger vecchio ammuffito anche zombie ha hamburger sembra burger gommoso sinceramente credo siano invertiti per assaggiarlo ci vuole un coraggio mai avuto prima d'ora no non ce la faccio zombie odia gelatine zombie annusa orsetti zombie assaggia zombie non piace caramella gommosa oh zombie sente odore buono zombie trovato hamburger buono vuoi l'hamburger ammuffito vai allora che odorino ehi io prenderò quello di gelatine allora oh zombie quell'hamburger fa schifo burger buonissimo non riesco nemmeno a guardarti mentre lo mangi molto meglio sono contenta che abbiamo fatto a cambio zombie d'accordo questa giornata potrebbe essere più noiosa cioccolato forte le cose stanno migliorando vero io dico di fare un tuffo te l'appoggio a questa ciambella serve qualcosa in più wow che vista paradisiaca pura perfezione questa cosa migliora di secondo in secondo solo un altro po' wow aspetta sono io o c'è più colore direi di sì facciamolo si possono usare le dita perché a me piace da matti niam Ellie la mia testa i tuoi occhi rilassati sono soltanto dolci non vedi ne ho una tonnellata e stanno per diventare ancora più buoni capito che intendo? oh sì dammeli così facciamo prima spiedini di occhi come sono morbidi mi sento osservata inquietante vero? wow bello la situazione sta per migliorare occhi di cioccolato saranno buonissimi ho già l'acquolina in bocca fatto ne voglio uno ti piace? oh sì tantissimo tieni grazie ma sono dolcissimi e quel centro appiccicoso delizioso i tuoi occhi sono così blu eh sì? anch'io voglio degli occhi nuovi mmm com'è gommoso sono già cambiati? sono diventati rossi continuiamo a mangiare sì voglio un nuovo colore mmm ora li voglio verdi ho una fame edem aspetta ho un'idea sono incuriosita ta-da torno subito intanto questi orsetti gommosi dovrebbero bastarmi io adoro quelli verdi gnam questo posto è enorme ehi fragole sono venuta per voi queste sono bellissime Ellie sarà così felice serve un po' di cioccolato qui e vai mmm gustoso che viaggio frutta fresca ne ho una tonnellata wow non riesco a scegliere devo inventarmi qualcosa sono tutti che stai facendo? guarda sono tutti sciolti vedi? ho in mente un piano ossia spiedini di frutta forte posso? vai nella gelatina sembra una figata vero? bella appiccicosa come piace a me ma manca il cioccolato un sacco di cioccolato ora si che si ragiona ma chi ne vuole solo una quando può averne un piatto intero? una per te oh me la gusterò per bene così succosa e deliziosa guarda che meraviglia non riesco a sopportare la suspense mmm mmm questo sì che è un boccone hai sentito? ehi voi ladruncole parla di questi? questi ragazzi di oggi bel cappello buona giornata beh almeno abbiamo dei dolcetti puoi dirlo forte un altro fantastico questa giornata non finisce mai coppa di gelato in arrivo oh aspetta ora è la mia occasione gelato al lampone ne ha abbastanza da condividerlo mmm così cremoso ancora un po' non se ne accorgerà nemmeno a pensarci bene oh non c'è gelato senza guarnizioni no c'è qualcosa qui fammi pensare ehi zuccherini blu ora sì che ragioniamo il cioccolato ma certo e tu mi aiuterai facciamolo adesso ho due fontane bene cominciamo ricopriamoti di cioccolato bianco bello e adesso vai nel cioccolato al latte quanto è bello guardate questi strati è come una barretta di cioccolato e il polso però si sta stancando un pochino bene solo un altro po' ed è pronta ellie non può essere arrabbiata con me adesso eccola che arriva fuori di qui oh ehi ho trovato questi aspetta ma che non era un gelato che strano oh beh il cioccolato è cioccolato giusto e gli zuccherini vanno con tutto wow questo sì che è un dessert che croccantezza e quegli strati quanto è bello c'è mancato poco fantastico ne vuoi un po'? no no tutto tuo Gina vuoi guardarmi? pronto vuoi mettere giù quel dannato telefono? non fai altro che mandare messaggini tutto il tempo sto raccontando una storia che maleducata Gina ehi non riesco a vedere ferma cavolo oddio la tua mano questa questa cosa? hai uno strano senso dell'umorismo ma forse posso usare questa e anche un po' di questo grazie per avermi dato una mano spero che non ti dispiaccia sì che stai facendo? è tutta coperta adesso un bel bagno di ghiaccio e poi? rimane un guscio di cioccolato vedi quanto è diventato duro? una grande mano di cioccolato che figata ma non abbiamo finito deve tenere qualcosa giusto? come un gelato la fragola si sposa benissimo col cioccolato oh sì sono preparata andiamo buon appetito abbasso i cellulari mmm aspetta proviamo così non può che essere buonissimo oh wow a noi in alto non ci ho pensato qualcuno ha un asciugamano? oh beh ne è valsa la pena mentre Gina è al telefono farò le mie cose ciao dolcissima scorta di caramelle quanta scelta oh ehi stavi nascondendo tutta quella roba? no sono ferita il mio dito guarda cosa faccio? si è conficcato tranquilla la dottoressa Gina sta arrivando togliamo quella scheggia no non ti agitare dammi la mano su ora tienila ferma presa visto? indolore non ci posso credere mi hai salvata cos'altro può fare quella siringa? voglio scoprirlo sei con me? io ok vieni con me cioccolato riempita ma non ho ancora finito dov'è? ehi trovato è come un magico tunnel di cioccolato ma ha bisogno di un posto dove andare oh tieni mettilo nell'acqua ghiacciata ok se lo dici tu così si solidificherà perfetto adesso tiriamolo fuori che forza sembra un serpente di cioccolato appiccicoso bacchetti sono pronta assaggiamo sono dei noodles di cioccolato buonissimi wow sono fantastici ottima idea meno male che ne ho fatti tanti quante porzioni saranno? direi dieci c'è solo un modo per scoprirlo che buoni potrei mangiarle in quantità industriali oh sì ma ora è il momento giusto per fermarsi questa pancia è piena anche la tua boing caramelle e video non c'è niente di meglio è troppo divertente ho finito le caramelle che fastidio no non ci credo è proprio quello di cui ho bisogno arrivano i rinforzi wow fantastico hai visto giuli voglio provare anch'io ecco wow ha funzionato questo è il nostro giorno fortunato guarda quante e sono tutte mie ordinane di più puoi contare su di me allora è rotto non lo so dovrebbero piovere caramelle attenta wow oh interessante potrebbe essere divertente credo che quelle blu siano le mie preferite hanno tutte lo stesso sapore quindi cosa si dovrebbe fare wow non me lo aspettavo guarda questi pop tube sono enormi è davvero fantastico tutto qua ma vabbè lexi guarda lo userò come una cannuccia succhierò tutte le caramelle buone ok ne voglio ancora non riesco a smettere dammi dammi mamma mia ne ho tantissimi questo è il giorno più bello della mia vita ma cosa ci faccio ah lo so inizierò con questo unisco le estremità e lo metto intorno a una torta poi cambio colore e continuo ad accasassarli ora dei tubi più piccoli al centro è il momento delle caramelle non mi pento di nulla uffa ladra di caramelle fai sempre così cosa ti aspettavi e che stai facendo devo fare una telefonata pronto voglio tutto quello che hai subito è meglio che mi prepari aspettiamo oh ecco che arriva ehi da questa parte che sta succedendo sono confusa ecco lì Lexi cosa sta succedendo un po' più in là ok basta oh sì così va meglio wow sembra fantastico proprio un bel lavoro è una torta di caramelle appartiene a me cosa sto aspettando mangiamo wow è la cosa migliore di sempre morbida dolce croccante e gustosa posso assaggiare dai mi sento generosa wow e vai mi chiedo cosa faremo questa volta credo che questo risponda alla tua domanda aspetta tutto qui un uovo sul serio oh andiamo cavolo sono un sacco di uova la gallina deve essere esausta io mi metto ai fornelli guarda e ammira inizierò separando l'uovo questo gadget lo rende davvero facile metto il tuorlo in padella e accendo il fuoco avrò bisogno di questo spiedino lo spingo nel tuorlo mi sembra che sia pronto è come un lecca lecca all'uovo tutto qui sì tanto sarà buonissimo mmm ci voleva proprio ho in programma qualcosa di speciale è meglio aprire queste uova potrebbe volerci un po uno in meno ne mancano molti altri è meglio che acceleri sono una macchina rompi uova oh è dura mi sta venendo appetito 96 97 perché a lei vanno tutte le cose belle questo era l'ultimo 100 uova ora devo sbatterle ma non lo faccio a mano questo farà tutto il lavoro uh uh guarda come vanno è stato velocissimo c'è ancora molto da fare verso le uova nella teglia via darò una scrollata per distribuirle bene e poi via in forno è cotto alla perfezione lo tolgo dalla teglia sembra buonissimo ma ha bisogno di qualcos'altro ci metto sopra delle fette di formaggio poi ricopro con altro uovo ora del pane e ora un altro strato di uova ho sempre più fame ci cospargo sopra questi peperoni e poi ancora uova il prossimo ingrediente è il salame ora lo arrotolo questa è la parte difficile non voglio che gli ingredienti cadano è un burrito all'uovo lo taglio a metà vediamo la sezione voglio vedere tutti quegli strati gustosi wow sei un genio devo provarlo per favore sapevo che l'avresti detto va bene te ne taglio una fetta ecco qua spero ti piaccia grazie Lexi un attimo perché la tua fetta è più grande della mia? non mi sembra giusto sono lo chef in effetti ma non sono felice chi sto prendendo in giro il cebo gratis è sempre bello wow è una bomba di gusto sapevo che ti sarebbe piaciuto piacermi lo adoro hai ragione è pazzesco ti tengo d'occhio pensi di farmi paura? basta premo il pulsante oh ecco che arriva mmm popcorn croccanti è il mio turno mmm sì oh quindi è così eh continuerò a premere voglio una pioggia di popcorn Julie adesso è troppo non mi sto lamentando eh? che cosa è successo? hai premuto troppe volte ciao sarà emozionante? no una casa di cioccolato aspetta ma hai ricevuto solo una barretta di cioccolato non serve essere cattiva sto ancora elaborando voglio dire guarda quella casa non ho mai visto nulla di simile sembra un'opera d'arte sarebbe un peccato mangiarla ma lo farò e me la gusterò iniziamo dal tetto Lexi guarda eh? c'è qualcosa lì dentro aspetta quelli sono troll uh uh eh un'umana ehi quello era il nostro tetto accidenti sembrano arrabbiati scusate colpa mia ha rovinato la nostra casa non so cosa dire sì ditegliene quattro lo ha fatto apposta e le è piaciuto vedi ha capito sei una vera amica delle nazioni dei troll queste sono per ringraziarti wow non ci credo fantastico cosa? dovresti essere più come lei infatti ho capito non vi importa proprio del vostro tetto non è male farò una torre di cioccolato auguratemi buona fortuna posiziono le tavolette di cioccolato in questo modo fin qui tutto bene per fortuna ho la mano ferma Lexi shh devo concentrarmi sta andando bene è piuttosto alta e sembra buonissimo se prendo questo pezzo oh oh devo nascondere le prove me lo ficco in bocca non lo saprà mai cosa cosa è successo? che cosa hai fatto? eh? non so di che parli tutto il mio duro lavoro rovinato è tutta colpa tua come hai potuto? sono così arrabbiata forse un po' di cioccolato ti tirerà su il morale dai potrebbe essere d'aiuto da qua attenzione trosto arrivando non vedo l'ora ramen guarda qui Lexi ho una ciotola minuscola cosa ho fatto per meritarmi questo? uffa odio questo gioco sono tantissimi sono così felice guarda la tua ciotola beh credo sia meglio iniziare buon appetito i miei capelli sono d'intralcio dovrò legarmeli aspetta posso usarla è come avere delle mini bacchette funziona sono colpita Lexi è stato facile spero che abbiano un buon sapore oh sì è stato divertente ne voglio di più ok almeno ti piacciono è meglio che inizi anche io forse se faccio con le mani no non credo sia una buona idea come va Julie? non ho bisogno di bacchette ho questo guarda qui guarda come li tira su presi ora posso mangiare oh sì troppo buoni sono davvero gustosi che cosa ho appena visto? brutta l'invidia stai indietro potresti sporcarti Julie no! niente può fermarmi? mi sto divertendo troppo aspetta guarda qua non sprecarli mi sento così viva continua non fermarti devo usarlo più spesso rende divertenti stare a tavola mi sta piacendo anche a me hai detto qualcosa? Lexi perché hai del ramen sui vestiti? è l'ultima tendenza ok wow ma che bella giornata vero? e avere la giornata libera la rende ancora migliore a proposito di cose belle conosco quel rumore? cosa? no è mio e dai ce n'è abbastanza guarda cosa hai fatto adesso nessuno lo mangerà ma cosa sta succedendo? ma dove siamo? sembra un paradiso di cioccolato guarda questa possiamo mangiare? ma che buon odore sì è cioccolato al latte ma cos'altro sento? proviene da qui sono delle cipolle saranno più buone con il cioccolato mi viene da vomitare solo a pensarci e io? marshmallow ma che meraviglia un enorme marshmallow tutto per me ehi ce ne sono abbastanza per entrambe vedi? ma mi servono per fare questo e dai infilatevi le piccole narici ecco adesso non sento più la puzza e posso ricoprirle? com'è cremoso questo cioccolato pensi che farà schifo? allora le immergerò di nuovo sembrano buone ti giuro si sente solo il cioccolato non posso guardare in realtà non è poi così male qualcosa mi dice che i marshmallow saranno molto più buoni ho già la colina in bocca eh sì non sa per niente di cipolla beh perché perdere tempo? ho così tanta sete non dovrei metterci molto facciamo il pieno basta così non è bellissimo quale mangio per primo? beh li metto insieme no mi sono schizzata con il cioccolato quanto è volato vabbè può succedere giusto? beh almeno hai un delizioso snack non ancora ok ma che strano di certo non va col cioccolato insomma è un frutto no? forse sarà un po' come con le fragole voglio ricoprirlo per bene potrà mai essere tanto male? è ricoperto di cioccolato ma la buccia è dura non si sente nemmeno il oh ma si sente ed è così aspro a me servirebbe qualche salsa ma il limone va bene ehi ma cosa ci vuoi fare con quello? questo sì che è appetitoso ma non con il cioccolato diamoci dentro cosciotti ma guarda quanto cioccolato ho già mangiato delle cosciette così e ne ho così tante ci vorrebbero delle noccioline sopra ma Claire è impazzita stupendo tutto per me non le mangerà mica sì lo sta per fare sembra quasi la salsa mole potrei mangiare il secchio intero Claire ma quanto pollo ti sei messo in bocca? mangerei persino le ossa ok ancora una due cosci in arrivo ma sei un animale un animale affamato Claire ma non sei sazia? credo di essere arrivata al limite forse dovresti fare una pausa che schifo tocca a te no a te insisto bene questa torta è tutta per me ma entra nella fontana capito saluta questa mini me carina tu metti qui grazie a questa barriera posso versarci il cioccolato e dai entra ci siamo quasi forse se mi sposto un pochino adesso va meglio perfetto mini me attenzione è un alluvione di cioccolato e non si muove vedi? ma cos'è una torta senza questi? pioggia di confetti oh ma com'è divertente e ora è quasi pronta tolgo e faccio colare non è figo? è la torta più figa mai vista sembra professionale eh? ed è stato semplicissimo ne vuoi un po'? io di sicuro sì i cucchiai sono perfetti per le torte ma guarda fatti spazio ti spiace? di come sta? di paradiso cosa pensi ci sia sotto la mia? che me ne faccio di una tortilla? mi servirà uno spalmino basta un piccolo taglio beh e ovviamente il cioccolato sì così nella tortilla me ne serve parecchio adesso la parte divertente ma prima devo spalmarlo come fosse una torta ci siamo ora che è pronta entrino i veri protagonisti ed ecco i dolci cominciamo i marshmallow ma li metterò solo su un quarto e poi ci vogliono gli M&M's sembrano buonissimi e queste invece? io ne prenderò un bel po' e ora i gommosi ecco qua e adesso guarda basta piegare ogni parte e avrai una tortilla a più strati accidenti una bomba di zuccheri devo mordere tutti gli strati missione compiuta la genialità ha un ottimo sapore dopo questa sarò iperattiva buon appetito facciamolo tada l'era ha avuto una gran fortuna la ciambella sembra buona e il cioccolato la renderà migliore sì sembra molto più buona adesso si scioglie davvero in bocca ma non è giusto a meno che mentre lei è distratta dalla ciambella io scambierò quest'uovo con questo cioccolato su cioccolato mica male sì sarà troppo buono e fortunatamente io sono fan del cioccolato e non si vede che l'uovo è finito vieni da mamma vuoi veramente mangiarlo? al centro c'è della crema ma Claire non deve saperlo che schifo se vuoi puoi mangiare questo qui ok lo assaggerò dai mica farà così schifo no? va troppo divertente così va bene nasconderà il sapore dell'uovo lo sta facendo davvero sì è strano ma non è malvagio non posso credere di non averlo mangiato prima non me l'aspettavo ma io mi terrò il mio vorresti avere a disposizione una fontana di cioccolato quale cibo strano starebbe bene col cioccolato fuso secondo te condividi questo video con i tuoi amici e iscriviti al nostro canale youtube per altri video come questo grazie a tutti